Nordica quest'anno ha vinto un importante premio nel campo Scarponi, premio ISPA Award 2013, di cosa si tratta? Allora, intanto è un prodotto innovativo, è un nuovo progetto, quindi un grosso investimento da parte dell'azienda e siamo estremamente soddisfatti di aver vinto l'ISPA Award quest'anno perché è il risultato di un grosso sforzo fatto negli ultimi mesi. Abbiamo cercato di creare un prodotto che fosse il più versatile possibile, con le nuove tecnologie abbiamo creato un prodotto estremamente leggero quindi per far fronte all'esigenza dello sciatore moderno, dell'asciatrice moderna, quindi rispetto a un vecchio Scarpone che provate trovare negli scaffali due o tre anni fa pesiamo 700 grammi in meno, quindi è una bella sensazione quando si calza e sicuramente quando si scia anche si sente la differenza tra uno Scarpone molto pesante e molto leggero. Oltretutto abbiamo inserito tutta la tecnologia di Nordica per quanto riguarda la personalizzazione perché usiamo delle plastiche innovative che sono in modo leggero, come vi ho detto prima, però estremamente facili da lavorare. Abbiamo inserito un sistema weather shield che chiamiamo di impermeabilizzazione della prima parte della scarpa quindi una scarpone estremamente caldo e asciutto, quindi anche da gestire durante tutta la giornata in condizioni estreme con il piede sempre nelle condizioni ottimali. Per questo abbiamo studiato anche una scarpetta dedicata con un sistema di ventilazione dato da un materiale derivato dal mondo outdoor quindi un mesh traspirante che dà sempre una sicurezza dal punto di vista della tenuta del piede sempre asciutto anche in condizioni di grosse sudorazioni. Questo è uno Scarpone All Mountain, a chi si rivolge però? Diciamo che è uno Scarpone che noi chiamiamo, come ho detto prima, versatile. Si rivolge all'All Mountain perché gli abbiamo messo le caratteristiche, diciamo, moderne dello sciatore che chiaramente può essere, però può essere utilizzato in qualsiasi condizione, nella pista battuta o anche nelle prime escursioni fuori pista perché ha tutte quelle caratteristiche che sono necessarie allo sciatore moderno che può anche uscire dagli schemi tradizionali della pista. Un'ultima domanda, vediamo questo gancio molto verso la caviglia inclinato rispetto agli scarponi tradizionali. Questa è una nostra idea, appunto, è che avere la posizione del gancio a 45 gradi fa sì che aumenta la tenuta del tallone che come vedete anche dal profilo dello stampo è molto accentuato e questo fa sì appunto che il tallone venga alloggiato in maniera perfetta all'interno dello scafo quindi per un'ottima tenuta sulla neve in ogni condizione. Ti ringrazio e complimenti per il premio. Grazie.